Grazie a tutti voi che siete qui presenti, grazie alla stampa presente, scusate il leggero ritardo ma siamo andati con l'onorevole Fontana, l'ex ministro, a Rovereto per sostenere la candidatura di Andrea Zambelli, però abbiamo dovuto accumulare un po' di ritardo perché siamo voluti passare a portare un segno di vicinanza, un piccolo piano che altro grazie alla presenza di Lorenzo per portare la nostra solidarietà a una ragazza che candida nella lista della Lega a Rovereto, che stanotte una ragazza lavoratrice, una ragazza che questa notte quando è tornata ad aprire il suo negozio questa mattina si è trovata tutto il negozio imbrattato, si è trovata la serratura riempita del silicone da dei ragazzi che probabilmente questa mattina non come lei si alzavano per andare a lavorare e per pagare le tasse, ma che avevano probabilmente altro da fare, purtroppo questi gesti succedono troppo spesso e perciò portare quella cultura anche dell'educazione, del rispetto è assolutamente fondamentale e visto che anche a Trento purtroppo episodi simili si sono verificati, a questa ragazza ovviamente perché voi chiederete questa ragazza ha subito questo? Questa ragazza ha subito questo perché giovedì scorso durante il tour che abbiamo fatto con Matteo Salvini, che ha conosciuto, che è andato da tanti commercianti nel centro di Rovereto, ovviamente ha salutato il leader del primo partito italiano, perciò qualcuno ha voluto intimidire questa ragazza che candida, una giovane lavoratrice che candida e come ha detto giustamente Lorenzo Fontana a Rovereto, questa è violenza, perché vai a minare quella che è veramente la democrazia, chi va a sporcare, chi va veramente a mettere paura, perché ovviamente la prima paura di questa mattina di questa lavoratrice era il fatto che lo faranno di nuovo, ci attaccheranno di nuovo, semplicemente per il fatto di aver salutato, di aver aperto la porta del suo negozio, della sua attività commerciale, quella quale regolarmente lavora tutti i giorni, ha subito questa violenza. Credo che il Trentino del 2020 non debba essere questo, il Trentino del 2020 non può essere questo, e perciò credo fortemente che nelle candidature che il centro-destra ha individuato, e ora mi riferisco ovviamente sia a Rovereto che a Trento, ci siano delle persone che fanno dei valori, una cosa assolutamente fondamentale, nella cultura del rispetto, del confronto, le idee diverse, per carità di Dio, ovviamente, però la cultura del rispetto e dell'educazione penso che da questo punto di vista debba ritornare un gradino sopra, perché per qualcuno l'andare a manifestare, ad imbrattare, ad insultare costantemente è permesso. Ma questo non va bene, questo non va bene perché alla lunga fa danni, e credo che la candidatura di Andrea Merler sulla città di Trento sia una candidatura che guarda al futuro, non è una candidatura politica, lasciami passare questo termine Andrea, perché Andrea è l'unico candidato sindaco che ha fatto politica in questa città, rispetto a tutti gli altri. È un ragazzo che si è fatto le ossa a un consiglio circoscrizionale, che è sempre stato eletto in consiglio comunale con una lista civica all'interno del centrodestra, ma che fa politica per poter amministrare. E questo penso che sia una differenza fondamentale fra chi parla di progetti, perché Andrea da quando è stato nominato lo sentite parlare di progetti, lo sentite parlare di che cosa hai in mente da fare per la funivia, per l'ex intercementi, per cosa vuole fare nella zona sud di Trento, per cosa voglia fare per le famiglie, che vedevo oggi che parlava appunto della questione bonus famiglia. Parla di progetti, parla di cose serie. Dall'altra, e mi riferisco al candidato centrosidistra, c'è la polemica, c'è il passato e c'è l'arroganza. L'arroganza di chi si permette, dall'altro penso di una carriera internazionale, di venire a pontificare nei confronti della Lega, perché oggi Lorenzo Fontana non lo sa, ma c'è il candidato del centrosinistra che dice, ah ma Mirler ha riferito al candidato sindaco interno, cosa farà? Manderà qualcuno della Lega a trattare, visto che parla di investimenti Andrea, perché parla di voli pindarici, parla di investimenti, di poter attrarre investimenti sulla città di Trento, il candidato centrosinistra pontifica dicendo, cosa farà? manderà qualcuno della Lega, sempre con quel tono molto conciliante e da persona del dialogo, e da futuro sindaco che vuole sicuramente essere un sindaco unitario, vuole essere un sindaco che unisce la città di Trento. La città di Trento, e lo dicono i trentini, non lo dice la Lega, negli ultimi anni, che parliamo di cinque anni, è rimasta bloccata, una città che non ha saputo investire sul ruolo che le spetta, perché è il capoluogo del Trentino, il Trentino corre, il Trentino cresce se Trento cresce, e perciò è un rapporto sinergico che deve andare avanti, deve poter andare avanti, ma deve poter guardare al futuro. Crediamo fortemente nelle capacità di tutta la squadra, di tutti i candidati che ci mettono la faccia in questo momento, che supportano convintamente la candidatura di Andrea Merler, ed è per questo che oggi Lorenzo Fontana, ex ministro per la famiglia e la disabilità, per la prima volta introducendo, quando avrà stato nominato ministro, anche la bella parola, dopo lascerò parlare lui, per la questione della disabilità, e delle cose che ha fatto, che aveva iniziato a fare, dopo ovviamente lo sapete, è arrivato il governo, quindi 5 Stelle hanno tolto quel ministero, meglio dopo rivedendolo anche nella denominazione, e perciò credo che ora sia giusto, perché voi siete qua anche per ascoltare Lorenzo Fontana. Grazie a tutti. Bene, buonasera a tutti, questa è una conferenza stampa, non era un dibattito, non era uno speech, era la volontà, oggi, in un pomeriggio, nella nostra città, di far capire come noi, in questa campagna elettorale, che si fa sì su temi amministrativi e temi concreti, ma si deve fare anche sui valori, perché la difesa dei nostri valori deve essere un tema dell'anima di questa città. La città non si governa solo a colpi di ordinanze o di progetti, peraltro, mai realizzati. La città deve essere governata a 360 gradi. L'amministrazione, e chi si candida al sindaco, deve essere in grado di parlare a tutti i mondi, ai mondi che sono più grandi di lui, all'esterno di lui. Questo significa essere inclusivi, parlare a tutti, ascoltare tutti e poi però decidere, scegliere, amministrare. Voi sapete che io cito sempre quando diceva mia nonna, diceva se non si lavano bicchieri, non si rompono bicchieri. Ecco, noi siamo stufi, i trentini, i cittadini, sono stufi di una politica che discute, che si confronta, che fa progetti, che fa commissioni, che dopo però, quando deve decidere, procrastina alla prossima volta. Noi siamo qui davanti al sacro cuore oggi per parlare di valori ed entriamo nella concretezza per vedere come l'amministrazione comunale di Trento ha dialogato con questo istituto che è qui dal 1845 per formare le persone che devono formare le future generazioni. Cos'è successo? Partiamo da un criterio chiaro, lo vogliamo dire a tutta la città. Noi siamo per la libertà educativa. Noi siamo per sostenere le scuole paritarie. Questo non solo per un valore, come dire, che abbiamo noi cristiano o cattolico, che può essere assolutamente non condiviso anche dalla maggior parte della popolazione. Ma fosse anche che non venga consentito o non venga condiviso, il tema, lo diciamo anche laicamente, è un tema anche squisitamente economico. i bambini, i ragazzi, le ragazze che frequentano queste scuole costano allo Stato molto, molto meno e l'assessore Bisesti lo sta o la provincia molto, molto meno che non si andassero tutte nelle scuole pubbliche. Facciamo fantasia, domani chiudono tutte le scuole paritarie. Tutti i ragazzi da qualche parte bisognerà che vadano a scuola. Allora la provincia deve comprare immobili, blocare immobili e questo avrebbe un costo strabiliante perché questo è volontariato, questo comodato o questa realtà messa a disposizione è generosità ma non nei confronti dei singoli studenti, nei confronti della nostra comunità. Poi i contributi che danno le singole famiglie, questi anche dovrebbero essere pagati integralmente dalla provincia autonoma di Trento. Allora queste realtà vanno sostenute concretamente e non osteggiate come sino adesso senza rispetto ha fatto il comune di Trento e dentro nella concretezza perché voi sapete che gli slogan della nostra campagna elettorale sono onestà, competenza e concretezza e allora sulla competenza e sulla concretezza entriamo subito per non dire che stiamo dicendo cose a caso per screditare gli altri. Noi parliamo oggettivamente. il comune di Trento ha fatto una serie di impugnazioni nei confronti di questo istituto che nessun altro istituto del sacro cuore italiano italiano ha ricevuto. Cosa succede? C'è il tema se queste scuole se questi immobili devono pagare o meno prima l'ICI e oggi l'IMU. Siamo nel 2011 per il 2011 le scuole devono pagare pagano il dovuto il comune impugna anche il 2012 2013 e 2014 mentre tutto il resto d'Italia non impugna perché è uscita una normativa ministeriale che dice che se tu hai una retta più bassa di una certa somma non devi pagare l'IMU non la devi pagare perché qui non si fa attività commerciale qui si paga una piccola retta per far scuola per far risparmiare alle famiglie e alla provincia autonoma di Trento delle somme che cosa accade? Che il comune impugna loro vincono il primo grado in commissione tributaria e vorrei che la stampa lo scrivesse questa scuola vince il primo grado in commissione tributaria vince il secondo grado in commissione tributaria e il comune impugna ulteriormente mentre in tutto il resto d'Italia non si sono mai permessi hanno detto nel resto d'Italia vabbè è cambiata la normativa prendiamo atto non c'è funzione commerciale sotto questa retta va bene così qui invece si stanno spendendo denaro denaro pubblico del comune per impugnare e loro con preoccupazioni perché l'amministrazione li sta perseguitando giudiziariamente perché vuole da queste realtà 50.000 euro all'anno perché la sola della quale parliamo è 50.000 euro all'anno allora io lo dico io se vengo eletto sindaco di questa città rinuncio a questi contenziosi perché noi altro denaro da chi fa volontariato non lo vogliamo faremo come il resto d'Italia per i 2011 che paghino quello che devono poi si è modificata la norma e non chiederemo più un euro a queste persone poi le fasce orarie nella zona traffico limitato dobbiamo estendere la possibilità delle mamme e dei papà dell'asilo che c'è qua dentro e della e delle elementari fino alla quinta elementare di poter entrare dalle sette e un quarto alle nove a portare il loro bambino ma di cosa stiamo parlando che un comune non consente di entrare ai bambini della terza elementare della quinta elementare bisogna lasciare la macchina dov'è e non si riesce a portare un bambino se io verrò eletto sindaco di questa città le mamme e i papà porteranno i loro figli in qui davanti li accompagneranno dentro usciranno da questa o faranno il giro al contrario e andranno a lavorare perché se la scuola è in centro storico ma cosa ci possiamo fare? poi la cosa che più devo dire mi ha colpito ed è un tema molto delicato nel quale parlo invece in punta di piedi perché è un tema di diritto voi sapete che qua vi è stata la vicenda di una professoressa che non ha ricevuto il rinnovo del suo contratto i contratti sono a tempo indeterminato o a tempo determinato quelli a tempo determinato può succedere che nell'organizzazione scolastica non vengano confermati come accade a migliaia di persone che si occupano di scuola che lavorano nei bar della ristorazione che lavorano da qualsiasi parte che cosa accade la professoressa impugna e fa benissimo evidentemente impugnare un avvocato si permette di giudicare il fatto che un lavoratore impugni adducendo le sue motivazioni il fatto grave è che ho qui è che vi è stata la costituzione di parte civile della CGL patrocinata dall'avvocato schuster attuale candidato di Ianeselli firmata la costituzione di parte civile ve lo leggo contro l'istituto delle figlie del sacro cuore e quindi a costituirsi per mio conto contro l'istituto firma del procuratore il segretario generale Franco Ianeselli io consegno adesso alla stampa la costituzione di parte civile e la procura con la quale da segretario della CGL Franco Ianeselli che adesso viene a raccontarci che è il sindaco del dialogo del confronto della valorizzazione della diversità culturale dell'inclusione della solidarietà della vicinanza al mondo cattolico quando era segretario della CGL ha firmato una costituzione di parte civile di suo pugno contro questo istituto perché l'istituto non aveva rinnovato un contratto allora se lo debba rinnovare o non lo debba rinnovare lo dirà un giudice non c'è nessun problema le sentenze si rispettano e non si commentano ma questa cosa della cattiveria di costituirsi parte civile contro una scuola cattolica è bene che tutti lo sappiano prendiamo la consegna allora delle carte non faccio i miei complimenti ad Andrea perché mi sembra un candidato in gamba è convinto intanto ho esperienza e non è poco anche io sono arrivato a fare il vice sindaco della mia città non il sindaco ma il vice sindaco di Verona ma dopo aver fatto il consigliere di circoscrizione il consigliere comunale quindi voglio dire è importante conoscere la macchina amministrativa perché partire andando subito magari a fare il sindaco è una cosa abbastanza complicata ma lo dico indipendentemente lo direi in qualsiasi senso perché comunque amministrare è forse la funzione più difficile che c'è a livello politico e fare il sindaco probabilmente è il ruolo più difficile quindi comunque mi è un bocca al lupo perché è un impegno gravoso e importante è una persona che ha sempre voluto quindi confrontarsi con gli elettori e sapete anche questo significa che comunque ha qualche caratteristica di leadership c'è perché prendere i voti significa che ci sono delle persone che comunque ti danno fiducia e non è una cosa che capita a tutti e quindi i miei complimenti ragazzo giovane tra l'altro cosa che mi fa molto piacere è che ha tre bambini se non sbaglio esatto quindi far politica e avere una famiglia numerosa di questi tempi è sicuramente un grande pregio e io chiedo un applauso per il fatto che ha è perché ma io lo dico per chi dovete io penso che il ragionamento sia sempre fondamentale in tutte le nostre attività quotidiane voi ragionate se è una persona che si è costruito già così giovane una famiglia con tre bambini quindi immaginate insomma avrà sicuramente anche una santa donna assieme ma ha costruito un qualcosa è una persona che ha già costruito qualcosa significa che può fare grandi cose costruire grandi cose anche per la propria comunità perché lui una piccola comunità l'ha già costruita è della sua casa la sua famiglia e cos'è una città se non un insieme di famiglie e quindi una persona che ha cuore la famiglia è sicuramente una persona che ha cuore anche la propria comunità e quindi da questo punto di vista è una garanzia ulteriore per voi per poter avere un bravo sindaco perché il sindaco fondamentalmente è quella persona che governa una comunità che ha un insieme di famiglie ed è questo secondo me il valore civico fondamentale che deve avere un sindaco e si parlava qui della scuola e io sono andato mi ha fatto molto piacere che bello avere la possibilità di avere strutture scuole di questo tipo da una parte per le istituzioni permettetemi di fare un complimento all'assessore alla scuola dell'istituzione di Trento del Trentino Mirko Di Vesti perché sapete noi veneti vi invidiamo un po' l'autonomia so che qui le scuole sono partite e mi sembra che stiano funzionando anche bene noi purtroppo abbiamo ancora questa competenza sotto Roma che c'è la zolina e ho un po' di paura per settimana prossima e non so cosa accadrà insomma quindi però la fortuna di avere queste scuole paritarie è fondamentale non solo da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista culturale perché dà la possibilità di avere la libertà di scelta la libertà educativa qualcuno purtroppo a livello ideologico pensa che le famiglie non possano mettere becco sull'educazione dei figli e pensano che sia lo Stato a dover imporre un certo tipo di educazione guarda che questo è tipico di tutte le dittature di tutti i totalitarismi comunismo nazismo hanno sempre cercato di strappare i figli alle famiglie per indottrinarli secondo lo Stato è purtroppo un'ideologia e io quando vedo quelli che ce l'hanno ideologicamente a morte contro le scuole paritarie temo sempre che ci sia un fondo di ideologia pericoloso perché non può essere solo lo Stato a dare un'educazione ai nostri figli è giusto che ci siano anche gli istituti paritari è giusto che ci sia la libertà da parte dei genitori secondo ovviamente certi canoni fondamentali ma la libertà da parte dei genitori di decidere che tipo di educazione dare ai propri figli perché non sono scuole private sono scuole pubbliche non statali ed è fondamentale che ci sia la parte non statale perché altrimenti diventiamo come la Cina e io penso che nessuno di voi voglia diventare come la Cina però attenzione perché quando c'è stata la questione del lockdown io purtroppo ho visto a Roma che insomma sulle scuole paritarie non ci hanno sentito hanno fatto fatica non vedevano dargli nessun tipo di aiuto non capendo il valore sociale e il valore fondamentale per la democrazia che hanno questi istituti quindi mi ha fatto piacere sentire come il nostro Andrea il nostro candidato sindaco abbia a cuore comunque anche questa istituzione che è fondamentale per il buon vivere di ogni civiltà guardate sono convinto che dimostrerà mi auguro la futura amministrazione nel caso in cui non riuscissimo a vincere che noi non siamo odiatori come qualcuno ritiene ma invece siamo persone per bene e che hanno a cuore e a loro comunità ma distruggo distruggo perché dico questo oggi siamo stati anche a Rovereto una ragazza giovane che lavora stava lavorando quando siamo andati a salutarla che si trova in negozio imbrattato rotte le serrature eccetera un bar che ha ospitato Matteo Salvini che si trova delle scritte fuori insulti e un modo per intimorire no? l'avversario politico ecco queste cose fatte da quelli che nella vulgata vengono considerati buoni perché sono quelli a favore dell'immigrazione incontrollata perché sono a favore di un fatto che non ci sono più confini questi purtroppo nella vulgata vengono dipinti come i buoni andare a dar pastidio a impaurire una ragazza che lavora una ragazza giovane che lavora se l'avesse fatta qualcuno del nostro gruppo politico io mi sono preso del misogeno e dell'odiatore delle donne perché ho detto che secondo me una donna è giusto che possa realizzarsi nel lavoro ma anche diventando una mamma che penso sia una delle cose più belle che possono esserci per una donna per questo mi sono preso del misogeno come uno che è contro le donne abbiamo cercato di portare avanti delle cose a livello ministeriale perché ci fosse la collaborazione fra luogo di lavoro e famiglia per fare in modo che si potesse arrivare a un equilibrio per le donne soprattutto fra luogo di lavoro e famiglia e questo veniva visto come una cosa totalmente anti contro le donne in particolar modo e quello che è successo a Romereto il fatto di aver fatto una violenza nei confronti di una ragazza non ha suscitato quello scandalo che secondo me dovrebbe suscitare cioè una civiltà importante come la terra di Trento come la terra del Trentino non può permettere che accada una cosa di quel tipo senza che nessuno faccia assolutamente nulla quindi attenzione perché nel 2020 cose di questo tipo non possono accadere guardate che ne va di quello che è il vostro comune sentore il vostro comune vivere e io sono convinto che l'aspetto sociale che farà prevalere il nostro candidato sindaco sarà fondamentale non solo sulla famiglia non solo sulla scelta di stare vicino alle donne in particolar modo alle mamme e lavoratrici ma anche nei confronti della disabilità il grado di civiltà di una comunità si misura in quanto questa comunità sta vicino alle persone più deboli e più fragili quante famiglie in questo lockdown hanno avuto difficoltà e soprattutto quante famiglie con magari dei ragazzini disabili hanno avuto grosse difficoltà è stata molto dura soprattutto per loro quindi cerchiamo come amministrazione se abbiamo la possibilità di star vicino a queste persone perché anche talvolta solo una parola solo un ascolto è fondamentale quindi io vi faccio il mio in bocca al lupo sono convinto che avete una buona squadra dei candidati sono convinto che avete un candidato sindaco in gamba capace e sono convinto che dopo tutti questi anni tanta gente anche a Trento abbia finalmente voglia di cambiare quindi il mio in bocca al lupo e viva Trento e viva la Lega grazie 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 che vergogno guarda va bene ancora è da me ancora ci interessa ci interessa io l'ho diritto di dire la sua brava non prindisi grazie 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 a tutti